Ciao a tutti, siamo qua con i Sikamo Rage che suoneranno questa sera in Second Stage alle 10 e li salutiamo Buonasera a tutti Questi sono solo 4, in realtà sono 6 ma non avevamo divanetti a sufficienza allora, volete raccontarci un po' il vostro gruppo? Voi siete probabilmente il gruppo più hippie che io abbia mai visto nell'ultimo anno e mezzo che è una cosa piuttosto rara di questi tempi siete un progetto nuovo, siete usciti nel 2012 se non sbaglio l'album è uscito a marzo 2012 il primo album in Italia è uscito a marzo immagino suonaste tutti già prima in altre band avete una certa confidenza con gli strumenti volete raccontarci un po' questo progetto? forse è un po' lunga comunque inizialmente eravamo io e lui da soli perché rimasi abbastanza colpito dalla sua voce per una coincidenza incredibile poi subito dopo è entrato lui e abbiamo fatto il disco praticamente a tre e poi in seguito anche sulla base della dovrei strutturare una band per il live abbiamo aggiunto elementi che già avevano suonato comunque anche nel disco perché lui per esempio ha suonato tutti i fiati del disco e anche Franco e gli altri Giovanni hanno partecipato comunque anche alla struttura del disco e questo disco è uscito autoprodotto? siete con un'etichetta? no, siamo con Audioglob Santeria e poi per l'estero siamo usciti adesso a marzo mi sembra ma sono in Germania per l'Aftrade e adesso a giugno in Francia sempre per l'Aftrade e avete anche in programma di andarci a suonare in Germania e in Francia? per adesso no, comunque l'idea c'è stiamo cercando un booking per là quello è assolutamente il punto di arrivo però piano piano ora è appena uscito il disco ci stiamo lavorando sopra sicuramente a breve speriamo di uscire ho visto, avete suonato al Miami mi avete detto a Milano che per come la vedo Miami ancora però esatto per come la vedo è una situazione un po' modaiola rispetto a voi che siete comunque per come vi intendo io dei rocchettari un po' più vecchio stile per questo ti ringrazio però comunque è una bellissima occasione per suonare comunque è un posto dove la musica italiana di oggi diciamo più indipendente ha una voce chiaramente può essere anche giudicato modaiolo e possa essere anche d'accordo sotto alcuni punti di vista però è comunque stata una bella occasione di personare anche insieme ad altri gruppi che nella scena italiana adesso stanno dicendo qualcosa e cercano di farsi sentire il più possibile in questo quanto avete di attività live alle spalle? questo se non sbaglio è il 52esimo concerto che facciamo con questa formazione in quanto? è un paio d'anni è un'attività discreta? c'è qualche live? sono abbastanza concerti? sì no c'è andata decisamente in troppo bene purtroppo sapete meglio di voi di me ma ci sono pochi soldi in giro ma noi andiamo incontro a questa problematica quindi si trovano sempre il periodo non è proprio eroseo però comunque ci sta andando di lusso raramente insomma il gruppo a meno che non sia famoso lo fa per i soldi certo certo anche perché in come suonate voi si vede una certa passione dentro se non altro per la quantità incredibile di strumenti che avete sul palco se volete farcene una panoramica perché chi verrà stasera può farsi un'idea anche se questa intervista probabilmente andrà in onda ben dopo stasera stasera la lista stasera la lista non è sucido magari abbiamo sì un sacco di strumenti in realtà che con cui ci piace diciamo giocare durante il concerto scambiarceli così poter dare il più sfumatore possibile al live come abbiamo provato a fare nel disco sperando di esserci riusciti al meglio e sono per esempio il buzzuki irlandese dal terimin, contrabbasso poi i vari strumenti della formazione rock classica come può essere la batteria un altro basso normale chitarra elettrica sintetizzatori violino fiati insomma ma il primo strumento che hai nominato non ho idea di che cosa possa essere il buzzuki è uno strumento da quattro accorde quattro corde doppie di origine greca noi abbiamo una versione irlandese ha fatto il giro del mondo questo è stato sempre modificato in ogni territorio spesso dove è arrivato è uno strumento acustico molto usato nella musica folk in flussi di elettronica ce ne sono in qualche modo nel vostro disco in molti anche sì assolutamente utilizziamo dal vivo sintetizzatori analogici oppure il computer i campionatori e tutto quello che è la nuova tecnologia può può aiutarci insomma noi cerchiamo di usarlo ok sinceramente non mi ero reso pensavo che fosse tutto analogico anche i sintetizzatori che i sintetizzatori fossero analogici e che non ci fossero macchinari tipo computer in mezzo no ma in realtà proprio come dire non voglio dire manifesto ma insomma la nostra idea di fondo è proprio quella di non darci nessun manifesto cioè nel senso di non avere limiti nell'usare strumenti perché spesso si usa questa tecnica per darsi un'identità tipo io uso il power tree oppure non so strumentazioni folk se voglio fare una cosa che ne so invece secondo me in questo momento storico proprio perché mancano nuovi apporti da parte della tecnologia in campo musicale tipo non esistono non si inventano nuovi synth non si inventano il computer è già stato usato inventato e sfruttato quindi forse l'unica cosa che c'è rimasto da fare è quella di spaziare il più possibile divertirsi con quello che già c'è mi sembra che comunque abbiate integrato il tutto piuttosto bene il feeling che si ha vedendovi è quello di un gruppo estremamente acustico per quanto ci sia molta strumentazione amplificata sì sì grazie questa è proprio la nostra intenzione comunque penso che non abbiamo neanche più tanto tempo voi avete un soundcheck che vi aspetta e quindi rimandiamo il pubblico a questa sera quando voi suonerete non c'è un gruppo spalla no questa sera siamo da soli sì e quindi vi auguro un buon concerto e vi saluto a tutti quanti grazie mille grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti